allora ragazzi rientra Douglas Costa e la domanda da farsi è per quanto tempo no adesso adesso di là della battuta scherzosa o la battuta nasconde sempre un fondo di verità no la battuta si fa su qualcosa di vero secondo infortunio di quest'anno ha smaltito questo secondo infortunio e ma basta no cioè cioè il problema è Douglas Costa qual è è che è un giocatore fortissimo tecnicamente uno dei più forti che abbia visto giocare tecnicamente sto dicendo se non voglio fare i paragoni con Messi Ronaldo Maradona è Douglas Costa è uno dei giocatori più forti tecnicamente cioè come tocco di palla come reattività velocità controllo tiro esecuzione passaggio è giocatore che spacca la partita secondo me è un giocatore da impiegare più in corso di gara che dall'inizio perché è in grado di imprimere alla partita un ritmo personale che può diventare devastante per un avversario che è già un po in deficit di ritmo di ossigeno di reattività eccetera quindi è un giocatore sopra alla norma ma lo è anche per infortuni recidive ricadute e quant'altro quindi ogni volta che Douglas Costa rientra si dice basta basta però se lo si dice ogni volta vuol dire che ogni volta ricade è ancora in qualche cosa in qualche infortunio che poi sono sempre in attura muscolare i suoi no lui riuscì addirittura nell'impresa se non ricordo male l'anno scorso a Valencia in Champions di farsi contemporaneamente male nella stessa azione sia a livello muscolare cioè praticamente si fece male da solo subito dopo cioè nella stessa nella stessa dinamica dell'azione contusione alla caviglia quindi diciamo che detiene anche questo retropa di Valencia è un giocatore che evidentemente ha dei muscoli fragili fragili cioè che non hanno una tenuta di continuità nel tempo nonostante nonostante non giochi con continuità tutte le partite cioè nonostante parta quasi sempre dalla panchina e quindi il suo impiego non sia così continuativo così ritmato come quello di altri giocatori l'esempio estremo no? Bonucci che ha saltato la prima gara all'Everkusen dopo averne giocate 20 su 20 in più quelle con la nazionale quindi figuratevi un po' lui già gioca poco e in più magari dipende da questo non lo so però già gioca poco e in più mi fermo qua perché non voglio... certo che rientro in Lugas Costa presta il fianco a magari possibilità tattiche Sari lo vede anche come trequartista lo vede anche come terza punta per fare i 4-3-3 perché insomma quei tre là ancora non li vede ancora non li vede ma io sono convinto sono convinto io ho una forte sensazione e la dico qua da spiattello qua che secondo me a febbraio quando ricomincia la Champions quei tre lì davanti li vediamo dall'inizio io vi dico questo perché intanto Sari non ha mai detto non succederà mai ha sempre detto non è al momento pronta la squadra a supportare anche un po' per le caratteristiche perché sia Di Bala che Iguain vanno ad accentrarsi scusate sia Di Bala che Ronaldo vanno ad accentrarsi Iguain è già nel mezzo magari vanno tutti e tre a creare casino in mezzo all'area ma non è il caos ragionato quindi è proprio casino cioè che si vanno a pestare i piedi tra di loro però 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 le grandi squadre specialmente in Europa vincono con gli attaccanti di qualità fatti giocare magari spesso assieme e quindi io dico anche in chiave Champions secondo me da febbraio in avanti quando sei dentro o fuori e non hai più possibilità di rimediare dentro o fuori secondo me si vedrà si vedranno quei tre lì Di Bala Iguain e Ronaldo tutti assieme dall'inizio la butto lì c'è proprio l'azzardo del balza però secondo me ci sono buone possibilità detto questo l'arrivo di Douglas Costa e il rientro di Douglas Costa può dare ottimi ottimi risultati da questo punto di vista può giocare nei tre avanti può giocare dietro alle due punte intanto da una buona alternativa rientra Douglas Costa si è allenato col gruppo anche d'Elite che evidentemente qualche problemino magari alla spalla lo sente ancora però sta bene adesso e soprattutto rientra Bentancur chi di voi avrebbe pensato un paio d'anni fa ma anche in parte l'anno scorso di sentirsi nominare Bentancur tra quelli che dici finalmente rientra meno male non è stato nulla di grave beh c'è Bentancur e quindi la squadra acquista in qualità in sicurezza in giocate in intelligenza a centrocampo non credo che siano in tanti io non pensavo mi ci metto anch'io non pensavo che Bentancur potesse sfoderare questa tecnica questa sicurezza questa determinazione e questa personalità stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni che ha compiuto i 22 anni a giugno quindi a 22 anni e mezzo praticamente stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni che secondo me se va avanti così sarà difficile da togliere dalla squadra ha trovato perché a volte scattano magari delle scintille ha trovato che allora che fosse tecnicamente dotato siamo d'accordo ma gli mancava la personalità gli mancavano le palle si può dire gli mancavano le palle soprattutto quando giocava nella Juve che nell'Uruguay giocava meglio in iniezione uruguaiana giocava meglio che nella Juve adesso la trovate quindi chi di voi avrebbe pensato che un giorno Bentancur sarebbe stato così importante in questa rosa e ha solo 22 anni quindi stanno arrivando delle buone notizie per Morito Sarri a parte Aaron Ramsey che si è allenato ancora in maniera differenziata anche qua stiamo parlando di muscoli che non sono proprio il massimo della tenuta però diciamo che sostanzialmente dal quadro che si dipingeva cioè l'assenza di Pjanic e quadrado il rischio di un lungo stopper Bentancur Douglas Costa che non si sa quando rientra lì con il problema alla spalla direi che tutte queste cose insomma adesso sono finite un po' sotto l'uscio domani non sarò la conferenza stampa di Morito Sarri ma ovviamente sentirò le sue parole e quindi ci vediamo al prossimo video e insomma questa è una settimana importante perché Juventus sudinese, Sampdoria Juventus e il 22 Ariad non sarò neanche Ariad ve lo anticipo non sarò neanche Ariad e quest'anno non si va fino in Arabia per la Supercoppa almeno da parte mia personalmente però questo non mi vieta di parlare ovviamente anche di quella partita però una partita per volta adesso ci si occupi di Juventus sul mese alla prossima ciao